Siamo a un nuovo appuntamento presso Fisioradi, la nuova struttura polivalente di Vismara. Oggi incontreremo la dottoressa Agnese Fiorelli, medico chirurgo specialista in agopuntura e non a caso abbiamo in mano i suoi strumenti del mestiere, questi aghi. Alla nostra sinistra Gino ci guarda un pochino preoccupato, ma noi lo vogliamo davvero rassicurare perché l'agopuntura in un contesto di medicina integrata ha un suo volo ben preciso e stai tranquillo, vedrai che la dottoressa Agnese ci tranquillizzerà tutti. Siamo con la dottoressa Agnese Fiorelli, medico chirurgo specialista in agopuntura, una pratica antichissima, si dice che addirittura risalga a 2000 anni avanti Cristo e forse di più. E quindi in un'era moderna come la nostra, cosa l'ha portata? Qual è stata la passione che l'ha fatta avvicinare all'agopuntura? Allora, dopo gli studi di medicina e chirurgia, diciamo che mi mancava un tassello per chiudere il famoso cerchio. Cioè avevo approfondito nelle varie specialità mediche le patologie degli organi, degli apparati, microbiologia, tutto ciò che concerne le innovazioni nell'ambito della terapia farmacologica, degli interventi chirurgici. Ma mi mancava di ritornare a un approccio un po' più antico alla medicina, alla visione globale del paziente. Intendo per visione globale considerare questi organi apparati che interagiscono e lavorano tra loro e interagiscono inevitabilmente con l'asse psichico, con l'asse mentale, con tutto ciò che è il mondo delle emozioni, del comportamento e dello stato mentale. In questi ultimi anni una branca della medicina si sta un pochino accentuando e si chiama PNEI, psico-neuroendocrino-immunologia, e porta proprio a questo concetto che è anche il perno, il centro fondante della medicina tradizionale cinese dell'agopuntura. Il considerare cioè l'individuo come psichesoma nella sua globalità e superare quella dicotomia che si è un po' creata con l'iperspecializzazione medica. È molto semplice capirlo anche in esempio pratico. L'asse mentale va a interagire fortemente sull'asse neuroendocrino, sull'asse immunologico. Basti pensare semplicemente che uno stress prolungato nel tempo può andare a incidere su quella che è la risposta immunitaria, indebolirla e renderci più esposti a patogeni esterni o una semplice patologia cutanea superficiale muscolare come una cervicalgia essere aggravata da stati tensivi protratti. Ma questo riguarda un po' tutti gli ambiti della medicina. Lo stress incide sulla patologia colica, gastroenterica, lo stress incide su patologie endocrine come il diabete, alle volte anche su patologie ginecologico-riproduttive. Quindi riconsiderare l'individuo nella sua globalità, psichesoma nella sua interezza. Che peraltro è anche un po' lo scopo, l'obiettivo di questa struttura. Fisioradi si occupa della salute delle persone a 360 gradi e quindi proprio anche il ruolo dell'agopuntura si inserisce perfettamente in questo sistema complesso. Sì, diciamo che sin dal 1979 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in seguito a una serie di studi scientifici, ha riconosciuto e validato clinicamente l'uso dell'agopuntura in una serie di patologie. Punta di diamante è rappresentata proprio dalle patologie del sistema muscoloscheletrico osteoarticolare e qui ne potrei citare tantissime, sia nel campo riabilitativo post-traumatico, post-chirurgico in campi artrosi, artriti, patologie reumatologiche. Quindi diciamo che il paziente che si rivolge a questo centro a scopo riabilitativo per trattare una patologia connessa a un dolore muscoloscheletrico, artrosico, artritico, trova risposta nella moltiplicità di specialisti che sono qui presenti e nell'agopuntura. Sottolineo una cosa fondamentale in questo ambito. L'agopuntura svolge il suo lavoro antalgico, antinfiammatorio, decontratturante, senza l'uso di farmaco e questo è molto importante in un pool di patologie che godono tra le varie indicazioni terapeutiche dell'uso invece di una farmacologia importante, il FANS, il cortisonico, la terapia infiltrativa, non sempre tollerata da tutti i pazienti. C'è il paziente allergico, c'è il paziente che ha già una polifarmacologia di base, c'è il paziente che ha delle patologie che mal vanno a combaciarsi con l'uso di questi tipi di molecole. Faccio esempio un asma, un diabete, una patologia gastrica, una patologia epatica. Quindi è importante la sinergia tra le varie figure presenti anche qui nel centro per trattare questo tipo di patologia. Dall'osteopata, al fisioterapista, alla terapia in acqua, alla ginnastica posturale. Tutti gli specialisti lavorano sinergicamente tra loro. Sì, poi proveniamo da un periodo, da una situazione sanitaria storica o unica per i nostri tempi, la pandemia, il coronavirus. Affrontare anche questa fase in maniera diversa, sicuramente anche in questo settore l'agopuntura ha trovato proprio il suo motivo di essere. Sì, tornando un po' al discorso iniziale, questa pandemia con la sua restrizione fisica ma anche psichica ha portato a riaffiorarsi di patologie, soprattutto in una fascia d'età che non veniva mai tanto alla nostra attenzione. Fascia dell'essenziale, giovane adulto, patologie del sonno, lieve depressione, ansia, attacchi di panico. Sono tutte richieste che io ho come agopuntore laddove riesco a lavorare senza l'uso di farmaco, concomitantemente a un lavoro alle volte di psicoterapia o anche un approccio d'attacco farmacologico per poi andarlo a scemare nel tempo, però abbiamo un pool di patologie di quella sfera mentale, psichica, che sono venuti in auge con la pandemia. Poi restano anche tutte le patologie di quei pazienti che hanno dovuto procrastinare nel tempo dei trattamenti. Ad esempio molto spesso si avvicina la coppia per un problema di infertilità e vuole cercare una risposta nella fecondazione omologo-eterologa e l'agopuntura è da compagno in tutto questo processo fino al transfert e nella fase anche a ridosso del transfert e poi una serie di altre patologie per cui notoriamente l'agopuntura ha un ottimo valore terapeutico, neurologiche, cefalee, emicragne, patologie ginecologiche della menopausa, tutto un quadro, però nella pandemia sono venute emerse soprattutto quelle che lavorano sul sistema psichico e mentale. Sì e quindi non a caso quando davvero si parla di medicina integrata non si può fare a meno di considerare pratiche come quelle appunto dell'agopuntura e altre facente parte di un sistema ampio che mira veramente a curare la persona da tutti i punti di vista. Sì la cosa fondamentale è riporre il paziente al centro, la relazione medico-paziente al centro, l'ascolto del paziente al centro, far lavorare in sinergia tutti i tipi di specialisti che possono offrire un ventaglio terapeutico per cucire una terapia su misura per quel paziente. Sottolineo il fatto che questo è volto a superare la patologia nel suo essere, quindi nel breve termine, ma a prevenire anche il discorso del rimanifestarsi della patologia o dell'aggravarsi nel lungo termine, quindi un lavoro a tutto tondo fatto anche sullo stile di vita. Voglio ricordare una cosa da quando mi sono approcciata agli studi, un detto di Pat Adams che era un medico della clown therapy che diceva quando il medico vuole curare la malattia può vincere o può perdere, quando il medico vuole curare la persona e si prende cura della persona vince sempre e questo cerchiamo di metterlo in atto nel nostro quotidiano. Grazie dottoressa Fiorelli, è davvero così, senza nessun tipo di preconcetti ma è davvero così. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.